Coil Master Kit di YV-2, il nuovo kit per principianti e professionisti della rigenerazione. Ecco la valigetta che andremo a vedere fra un attimo. All'interno della valigetta, come possiamo notare, tutto l'occorrente, cotone organico, tre pezzi al suo interno, una sorta di certificato di garanzia Coil Master, una card, e poi, a partire da destra, il kit per la rigenerazione. L'utensile per creare resistenze precise, un piccolo giravite a brucolo, e diverse punte per creare diverse dimensioni di resistenze, con un diametro da 1,5 fino a 4. Il suo funzionamento è semplicissimo, basterà prendere la misura adatta, inserirla all'interno del cap di questo accessorio, e siamo a metà dell'opera. Come possiamo notare, qui troviamo due buchini, uno e due, per fare una coil normale e una coil parallela. A questo punto andiamo a prendere un cappuccio, che avrà una dimensione sempre da 1,5 a 4, si fa passare il filo all'interno di questo buchino. Come molti sapranno, tra chi conosce questo tipo di accessorio, basterà soltanto ruotare la parte superiore per fare le spire della resistenza. Un accessorio molto utile che farà risparmiare tempo, e soprattutto offrirà un risultato finale a chi vuole realizzare coil, sempre con la massima precisione. Continuando, al suo interno troviamo un ohmmeter, un misuratore di ohm, alimentato da due batterie stilo, che ovviamente non sono in dotazione, e oltre ad essere un misuratore di resistenze, è anche un misuratore di batterie, di voltaggio di batterie, batterie stile EGO. Questo è l'alloggiamento per poterci inserire due batterie 18650, 10 piedi di filo in canton da 24 gouge, una forbicetta, richiudibile, e sulla parte sinistra della valigetta troviamo delle pinze a becco ricurvo, altre pinze con la punta in ceramica, molto molto ben fatte, ma soprattutto anche molto fragili, classico delle punte in ceramica, perfetta quando si va a stringere le coil, nel momento in cui si vanno ad inizializzare, e due giraviti, una pinza, in acciaio, a molla, ottima per piegare o stirare o anche tagliare, fili resistivi, una tronchesina anch'essa a molla, in acciaio, molto molto precisa, il kit Coil Master di Y1 V2, distribuito in Italia da Buff, vi ringraziamo per aver seguito la nostra video recensione, vi invitiamo a continuare a seguirci, per non perdervi nessuna novità futura, avä, ho messo la prima volta, Grazie a tutti.